Siamo qui con Gabriele San Paolo, segretario generale di 50 e più. Dottor San Paolo, quest'anno il concorso compie 30 anni. Qual è il successo di questa manifestazione? 30 anni è ancora una manifestazione giovanissima. Il successo è lo spirito, il significato che questa manifestazione ha per i partecipanti stessi. Stiamo parlando di persone che a un certo punto della loro vita hanno ritirato fuori dal cassetto il sogno di essere creativi, di essere di nuovo attaccati al pezzo tirando fuori i pennelli piuttosto che carta, penna e calamaio. Insomma, ritirando fuori le vecchie passioni. Questo è il vero segreto di una manifestazione che è trentenne e ancora giovanissima. Grazie. 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 Grazie.